Seconda parte di Senti Punto dedicata agli scrittori, a importanti scrittori presenti alla rassegna Mestriller di Mestre e vediamo innanzitutto Massimo Cralotto, importante presenza, è stato uno anche degli appuntamenti più frequentati nel corso della rassegna, lo abbiamo sentito e dopo di lui ascolteremo anche una interessante intervista con l'autrice Margherita Ogero. Massimo Cralotto, a Mestriller, innanzitutto un pensiero su thriller, noir, una definizione che è sempre più trasversale, comprende tanti stili, tanti modi di scrivere oppure secondo lei appunto ha una precisa determinazione? Ormai il genere letterario è in profondo cambiamento, io penso soprattutto alle situazioni italiane come un grande pentolone al cui interno sobollano un sacco di idee, intelligenze, fermenti, ma soprattutto i confini si stanno espandendo e quindi è molto difficile dare una definizione. Direi che è più un'esigenza delle case editrici, mentre per i lettori i romanzi sono o belli o brutti. Belli tutti quelli scritti da sé praticamente. Questo ultimo turista porta a Venezia sostanzialmente, anche se riporta, perché Venezia, Veneto, Nord-Est, in tanti spenti sono presenti molto spesso, molto in suoi racconti. Sì, è una Venezia diversa, vista da un occhio completamente, da un punto di vista completamente diverso, da un veneziano e da un turista, da un buono e da un cattivo. Quindi è una Venezia molto particolare, però Venezia è una delle città più belle del mondo e vale sempre la pena tornarci da un punto di vista narrativo. A questo allone di mistero che ben si attaglia anche appunto a un trailer. Beh, sì, Venezia è storicamente la città degli intrighi, delle spie, quindi era il posto giusto sicuramente. Personaggi come nascono in questo caso? C'è un personaggio seriale, ripetuto o un nuovo personaggio? Il turista credo che diventerà un personaggio seriale, l'inizio non lo era, poi sono sempre i lettori che decidono e il lettore in questo caso non ha deciso che la serie deve continuare e quindi siamo pronti per un altro romanzo. Piace questo affrontare appunto personaggi diversi nel tempo, portarli via via, farli crescere, farli completare diciamo i loro percorsi? Personaggi diversi e nuovi sono proprio una necessità, non è possibile fossilizzarsi con personaggi con serie molto lunghe, secondo me bisogna differenziarsi, non solo per offrire cose nuove al pubblico ma anche perché nuovi personaggi ti permettono anche di approfondire tematiche diverse. Il posto di approfondire i temi, diceva che il romanzo sostanzialmente permette di essere una forma di cronaca, di approfondire alcuni temi come il giornalismo forse non fa più. Il giornalismo ha qualche difficoltà tra le querele per riformazione e il fatto che comunque è molto difficile parlare di criminalità organizzata in questo paese. Se diciamo che il romanzo ha trovato la misura giusta per poter raccontare storie negate, quelle che difficilmente vengono raccontate. Quanta realtà c'è nei suoi romanzi, nei suoi racconti? Ma io sempre mi baso con un 40, un 60, poi mescolo, cerco di mescolare sapientemente nella costruzione della finzione narrativa, del romanzo che funziona sempre per raccontare anche determinate situazioni. Quanta preparazione c'è dietro invece? Quanto studio nel approfondire determinate tematiche? Per romanzo almeno un anno di preparazione solo del materiale per affrontare la costruzione e la trama, ma questo ormai riguarda tutti gli scrittori, non è possibile presentarsi impreparati all'appuntamento del romanzo. E come si scrive a quattro mani o anche a sei mani come l'è capitato? A me è capitato anche a venti mani con un romanzo ed è una vera follia, nel senso che è molto difficile, è molto complicato, però bisogna trovare un equilibrio. Sostanzialmente si ruba il lavoro agli sceneggiatori cinematografici e si immagina il romanzo per scene, allora si procede per scene e allora si riesce a scrivere a più mani. E la porto al pubblico com'è? C'è un contatto diretto, ha delle richieste anche dai suoi lettori? Io ho un contatto, sono appena reduce da una sessantina di presentazioni cominciate a settembre turista, ma soprattutto oggi è molto importante il rapporto con i lettori, perché ti danno la misura del tuo lavoro, ma soprattutto sono lettori diversi, moderni, preparatissimi, che veramente contribuiscono al genere, dal punto di vista culturale sono molto importanti. In suo occhio la cronica è costante e continuo, alla politica invece ogni tanto qualche riferimento particolare o preferisci in qualche modo mettersi in meno con una mano? Beh, non ha una scrittura sociale, una scrittura politica, quindi lo scrittore dice sempre la sua, pone sempre il suo punto di vista, è anche in altruista, dico alcune cose che penso su Venezia e altre cose che penso sull'Italia. Ultima cosa, quanta rabbia e quanta violenza c'è nei suoi racconti appunto, viene espressa? Vabbè, parlando di storie noir, parlando di criminalità soprattutto organizzata, non tanto la rabbia ma la violenza è una cifra necessaria. L'importante è non indulgere mai, ma essere, avere la giusta misura nella descrizione. L'occasione appunto per presentare tra l'altro questo suo ultimo libro, ma non parleremo soltanto di questo. Parliamo innanzitutto del fatto della collocazione, innanzitutto del trailer noir e il giallo. È un ambito ben definito secondo lei o in qualche modo permette una trasversalità? Soprattutto ora che sono un po' cambiati i parametri, una grande trasversalità, nel senso che esistono gialli o noir con ambientazioni molto diverse, con ambizioni diverse, con aspirazioni anche proprio diverse. E poi oggi il noir e il giallo permettono anche una grande commistione di generi sostanzialmente. Il giallo non è più soltanto la ricerca di un crimine, cioè di chi ha commesso un crimine, ma può avere risvolti sociali, risvolti economici, eccetera. Cioè è un genere che è progressivamente salito verso i piani alti della letteratura, insomma. Dietro alla sua scrittura c'è una buona percentuale di divertimento personale? Sì, in realtà sì. Anche perché i miei gialli erano quasi sempre gialli con una forte componente ironica e con una forte componente anche di divertimento da parte di chi investigava, che poi sostanzialmente non era una investigatrice autorizzata, insomma. C'erano ovviamente i commissari, gli ispettori e così via. Però poi c'era un'insegnante pasticciona, in sostanza una che si faceva i fatti degli altri invece che i suoi, che però in qualche modo arrivava alla conclusione positiva della sua privatissima indagine, con mezzi che non erano fatti quelli tradizionali, insomma, e che non avrebbero retto qualunque, ovviamente, contro interrogatorio in tribunale. Era un modo per dire che si può arrivare alla verità, che poi non si sa se possa essere naturalmente confermata, anche attraverso mezzi che non sono quelli classici dell'indagine. Il successo e poi appunto la serialità della scrittura le ha tolto un po' di questa ludicità, diciamo, nella processa dello scrivere? Beh, un pochino sì, però ultimamente i miei libri sono dei gialli molto trasversali, in cui il giallo entra solo per una minima parte. Però poi continuo invece a scrivere i soggetti per le varie serie televisive, anzi proprio lunedì cominceranno a girare la settima a Roma per gli interni e poi verranno a Torino per gli esterni. Quanta differenza c'è tra appunto la stesura di un libro e la stesura di una sceneggiatura? No, io non scrivo le sceneggiature, credo di non saperle scrivere bene, credo che ci siano sceneggiatori o comunque a dettai lavori che sono più attrezzati di me in questo particolare genere di scrittura. Scrivi i soggetti, naturalmente il soggetto è una traccia, molto meno della sceneggiatura, è una traccia in cui ci sono gli avvenimenti grossomodo indicati, cioè non grossomodo, ci sono gli avvenimenti indicati con abbastanza precisione, però poi ovviamente sta allo sceneggiatore dargli quella incisività e poi c'è tutto il lavoro degli attori, dei registi e naturalmente anche l'apporto di quelle professionalità che sembrano minori ma non lo sono affatto, cioè il direttore della fotografia, i costumisti, gli arredatori, eccetera. Quindi è poi un lavoro collettivo, un lavoro collettivo di cui il soggetto è, diciamo, la base ma non costituisce tutta l'opera, insomma. E quello che vede poi prodotto in televisione ricalca fedelmente quello che aveva in testa lei? Ma in genere sì, poi comunque cerco sempre di pormi nella posizione di chi ha scritto una cosa ma poi condivide l'esito con altri, perché è inutile pensare che un soggetto possa poi essere rispettato sino alla fine, perché per esempio se indichi c'è una giornata piovosa perché tu pensi che quello sia importante, se la pioggia non c'è e naturalmente per ragioni economiche nel girare è una giornata soleggiata, direi che va bene lo stesso, insomma, ma bisogna neanche impuntarsi sulle cose minime. Si diceva all'inizio appunto dei libri precedenti, appunto dei personaggi anche precedenti, i suoi primi libri nel cassetto che poteva pubblicare, diciamo, per quanto tempo lo sono stati? Beh, in verità non lo sono stati affatto, in questo senso mi sento abbastanza miracolata, perché quando ho scritto il primo romanzo e l'ho affidato ad un agente, perché non sapevo come muovermi nell'ambiente editoriale, è stato accettato subito, e poi anzi mi è stato chiesto di continuare, per cui io sono uno di quegli esempi fortunati di chi non ha fatto tanta anticamera, è anche vero che avevo già un'età, per cui se avessi fatto tanta anticamera forse non avrei più pubblicato niente. Luciana Litizzetto e Veronica Pivetti, il rapporto con loro è un rapporto precedente o legato appunto all'attività? No, è un rapporto legato all'attività, sono due interpreti, Luciana Litizzetto del film che è stato tratto dal primo libro, e Veronica Pivetti dagli altri libri e poi con i soggetti invece originali. Hanno due modi ovviamente diversi di interpretare il personaggio, che è sempre lo stesso, però ogni attore ci mette del suo, giustamente. Mentre Luciana Litizzetto ne dà una versione un pochino più acre, un pochino più sferzante, Veronica Pivetti tende invece a una visione più materna del personaggio, insomma una visione più addolcita, meno con gli spilloni, ma questo fa parte proprio della loro personalità di attrice e credo anche di persone oltre che di attrice. Il condominio, il palazzo, la finestra sul cortile, in qualche modo è presente in molte dei suoi racconti? Sì, io vivo in città e vivo ovviamente, non ovviamente, potrei vivere in una villa ma invece vivo in un condominio. Vivo in un condominio e il condominio è davvero un micromondo, insomma, in cui esplodono tutte le tensioni del mondo, anche non volendo, in cui praticamente è contenuto un paese, è contenuto una piccola città. La finestra di fronte è un po' un omaggio a quella che erano i condominio, meglio ancora, le case di un tempo in cui il cortile faceva da legame tra case che si affacciavano sullo stesso cortile, pur essendo magari in vie diverse, cioè in vie o parallele o contrapposte. La civiltà dei cortili oggi è un po' svanita, anche perché i bambini non giocano più in cortile e poi perché in cortile non si fanno più tutte quelle attività che si facevano una volta, lavare la macchina, eccetera, eccetera. Però è un ricordo che io ho con molta nostalgia in qualche modo, perché il cortile era un mezzo attraverso cui davvero si comunicava, c'era secondo me meno conflittualità attraverso la presenza di questo spazio comune. Grazie a tutti!